Clamorosa scoperta su Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. La coppia è stata vista infatti con qualcosa di extralusso, che ha comprato il ballerino di Ballando con le stelle. Le immagini catturate dai paparazzi del settimanale chi sono state eloquenti e hanno fatto nascere anche le prime polemiche su di lui e sull'ex opinionista del grande fratello, nonché ex moglie di Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno ormai insieme alla luce del sole. Le immagini sono state scattate, mentre i due raggiungevano gli studi di Ballando con le stelle per le prove necessarie. Ma l'uomo si è fatto un regalo da solo che ha fatto brillare gli occhi a tanti, ma che ha innescato anche le proteste del pubblico. Dunque, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono arrivati a Ballando con le stelle a bordo di un mezzo sfavillante. Ricordiamo che i due comunque non danzano insieme, infatti lui è il ballerino di Federica Pellegrini mentre lei balla con Carlo Aloia. Comunque, tornando al clamoroso acquisto di Madonia, vediamo che tipo di auto ha adesso a sua disposizione. La nuova auto di Angelo Madonia è una Lamborghini Urus, che raggiunge i 300 km orari e che ha un prezzo sbalorditivo di più di 250.000 euro. E la Bruganelli sembra essere molto felice di poterla usare. Il settimanale chi ha alimentato la discussione, dicendo, il cavaliere si sarebbe conformato ai gusti extralusso della sua compagna. Staremo a vedere se Sonia e Angelo replicheranno a questa frase di chi. Per ora resta il fatto che Madonia si sia fatto un bel dono eppure parecchio costoso.